Bene, professore, andiamo alla seconda parte. Fontana è iniziata in molti progetti collaborativi con gli architetti più importanti del giorno, in particolare con Luciano Baldessarri, che condividono la ricerca di una luce spaziale, strutturata in neone nel 1951 e il 90 Trientale, tra le altre cose, commissione di designare la scelta del cinema in un pavillon di Cedar Comet a 21 Milano Fair nel 1953. A circa 1960, Fontana iniziò a rinventare un gatto e un pochino che caratterizzò il style personale fino al punto, copriando la canvassia con le piacere di piazza di ficole applicata con la mano, usando un scalpel o Stanley Knife per creare una grande fissura sulla superficie. In 1961, seguendo un'invitazione di partecipare, con l'artista Jean de Buffet, e Mark Rothko, che sempre erano fascinato, alcuni francesi, erano alcuni francesi, ma non sappiamo chi erano. Il professor è Sam Francis, non è alcuni francesi. Da Sam Francis, un'altra esibizione di piazza contemporanea e titoli «Art and Contemplation». Trattato a Palazzo Grassi in Venice, ha creato una serie di 22 lavori dedicati a la città di Lagun. Ha manipolato la piazza con le mani, e vari strumenti per fare furo di qualcosa, a volte includendo i francesi scaturati di Murano. Fontana fu invitata da Michelle Tapie per esibere due lavori da Martha Jackson Gallery in New York come conseguenza della sua prima visita a New York in 1961, l'anno prima di cui ero nato. Ah, allora, professor, ero nato anche nel 1962. Sì, molto buono. Ha creato una serie di lavori di metal che sono stati tra 1961 e 1965. Il lavoro è consistente di larghe piazza di copero piacere e gorgere, tagliati da un gesto drammatico verticale che ricordano la forza della costruzione di New York e il metallo e il glasso dei bambini. Beh, professor, questo è molto interessante. Poi, vorresti continuare? Inoltre Fontana, l'ultimo lavoro, ha una serie di teatrini, un'elite teatrice, in cui si ritornò ad un'esensuale di un'esensuale, utilizzando i bambini, e i closetti dentro i bambini risentendosi a un frame che riferisce a teatrini e ad un'esensuale dell'esensuale, mentre, all'interno, una serie di sfere irregolari oscillanti, le siluette creano una scuola di scuola. Un altro lavoro da quel tempo, Trinità, triniti, consiste di tre grandi canvassi, puntuiti da linee di tutto, e presenti in un settore creativo di strada di plastiche ultramarini strada di strada di plastiche vagli risentendosi . Nel ultimo anno di sua carriera, Fontana è diventato un'interesse nella stagione del suo lavoro nelle molte esibizioni che ha ottenuto il mondo, ed è l'idea di purità che ha ottenuto sull'ultimo canvassi. I suoi risultati erano prominenti nel Biennale per cui ha disegnato l'environment per il suo lavoro . Nel documento d'or in Casso nel 1968 ha posizionato un grande placer come centro di un labirinto totale totale l'ambiente che ha ottenuto l'ambiente l'ambiente spaziale bianco . Non puoi vedere niente . Praticamente prima di sua morte era presente l'arte distraccionale . Questo è quello che stiamo facendo . Demostrazione al Finch Collegio di New York il professor è Finch Collegio il Finch Poi lo lasciò in Milano in Provincia di Varese dove morì nel 1968 della Rivoluzione che era in tutto il mondo . Praticamente grazie Fontana ha creato un'amount di grafica con motivi abstratti e piutture un po' un po' un po' un po' del mondo al stesso tempo che producì i suoi operativi 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 di Ovidio Lagos fondatore della La Capitale in Carrara Marbul Poi grazie 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 grazie